Poi a 4.500 metri, prima di quando saremo arrivati a 2.500 metri, prima di spiegare i piedi fuori i piedi, i piedi non li devi posare qui, ma parte a pentoloni, prende le nocce e prende le nocce, io sarò dietro di te e faremo ridi e andremo fuori. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ahahahah Grazie a tutti.